Si contano estese lesioni alla base del collo e vicino alla giugulare. Un seguente uccisa e poi data alle fiamme dall'extremi salto. Sarebbe stata strangolata. E aveva anche un titullo per lo stato di donna, 35 anni. Il suo aggressore era sorpresanzato per forzare, ma non c'è risultato. Per la morte della 14enne, è legato per il delitto della donna. Tra scomparse, è trovato problemi di donna. Il suo DNA è stato ritrovato sui leghi e sui libri della ragazza. Quei donni ha morti a distanza di poco tempo. La donna di 28 anni massacrata con 35 coltellate. Si è l'unica traccia concreta della ragazza. Colpita da 30 coltellate in più parti del collo. E' il bene che andi dalla mente. E' questa società non è stato rispettato. Quello mi chiese venuto perché si sono perse. E' questa società non è stata rispettata. Non è stata rispettata. Però non è stata rispettato. Grazie a tutti. 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 Sono la donna che si è svegliata. Ho trovato la mia strada e non tornerò mai indietro. Suzy Vescovari.